Vai sopra l'ammazzo di le tavoli! E' proprio ci stanno loro! Vai sopra! Ce ne stavano due! C'è sotto la caccia! Vado subito la caccia! Vado subito la caccia! Vado subito la caccia! Vado subito la caccia! Esci fuori! Sto piazzando la caccia! Sto piazzando la caccia! Sto piazzando la caccia! Vieni qua pronta a tridare! Vado a tirare quella ai divani eh! Ho la pistola in mano io eh! Bomba piazzata! Min'arma! Ce l'ho! Fate un back to back qua! Sdrai sulle scale! Lo deve leccare! My lord! E' meglio se sti sdrai perché da così in piedi se ne fai kill dall'alto! Io mi devo sdraiare gah! Come faccia sdrai a me! L'ho riagganciato comunque! Ma piace che l'avevi fatta da bunker a sopra? Vado subito la caccia! 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 E inizia a fare quella cosa che fa Gianmarco per cercare ok? Quanto mi vedi c'entro da quell'hammer! Ma da quest'hammer o l'altro? Occecchino! Bravo! Ok! Continua a guardare se sta qualcuno poi se me lo dici faccio camo sulla bomba! Che cazzo! Asbro che non gioca a bunker tutti i round! Ma devo fare un montaggio! Vedi se è crossa caccia! Uno in fondo! Cato una granata su B! Sì! Giacono lenti in reale! Eh sì sì! Uno a faccino! Uno ai tavoli! Bedroom! 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 Bedroom è one shot! Una pusherà non siamo uno di voi! Perché qua non ci stiamo! Bedroom mi tira un colpo! Colpo a me! L'ho rimesso io! Oddio! Bedroom è uno! Puscia l'altro! Ma peraltro non siete! Ma mi sembrate stupidi! Andate a morire! Sotto! Sotto! Dov'è la gaccia? Sotto! Sotto! Ha rotto il trophy su B! Stava al tavolo il trophy! Uè cucina? No calmo! Non è andato! E' uscito fuori la porta! Uno sta non sotto! Ma sono nato! Ma sono nato! Ma sono nato! Ma sono nato! Eh! Ma sono nato! Back to back! Stigato di merda! Forza! E' da tutte le persone che poi sono essendo da me! Abbiamo ritaccato veramente! Vabbè vaffan... Comunque ha spregato itwave su di me! Tu ce l'hai itwave Fili? Ok! Sì che ce l'ho itwave! Ha spregato su di me itwave! Vaffanculo! Mi ha dato senza faccia storta! Comunque raga! Simone Giammarco! Bella prestazione di merda! Andare uno per uno là! Per favore cambiate! Non è uno per uno! Io stavo ai tavoli! E poi dopo c'è andato lui! E si è fatto fuori! Che vuoi da me! Che vuoi da me! E' sempre lui! Si è vero! C'ha ragione! Io lo so che l'avevamo fatto noi comunque eh! Per favore Simone! Battene la prossima volta! Ritardato! Eeeh! Madonna santa! E' morto lì! Ragazzi andiamo sopra! Oh non sono riuscito a cambiare classe raga! Ma... Facciamo una cosa veloce! Che sono caduto! Fate la macchetta ai tavoli qua! Sono one shot! Guardate che mi pusha! Mi pusha! Te mi ha detto! E' sopra! Grazie! Vai a piazzare! Ti copro! E' sulla bomba! E' sulla bomba! Oh mio dio! Grazie mille! Mi piace! Pronti! Mi fa mettere in asso! Un milione di like per favore! Non so perché è ricaricato! Un milione di like! L'ho acceso col cerchino! L'ho acceso! L'ho acceso! Ah no! L'ho acceso con la pistola! No no! L'ho acceso con la pistola! Quello di prima l'ho acceso col cerchino tipo... Dopo facciamo montaggio! E' uspa! Siiii! Te c'hai over con!